Sabrina Baraccetti, ci racconta in un minuto e mezzo come in un trailer il Fef edizione 25? L'impresa è quasi possibile perché il 25 è proprio all'insegna della ricchezza, della diversità, delle assimetrie tra questi paesi che sono 14, 78 firma, 15 donne registe, 12 esordienti, 2 giuria, ma soprattutto il voto del pubblico che è quello che a noi proprio preme di più perché il festival è sempre stato un festival per il pubblico stiamo aspettando tantissime persone qui e quindi ci auguriamo veramente di poterli sorprendere ancora una volta come siamo stati sorpresi noi perché l'epoca che abbiamo vissuto non è stata facile, insomma, quella del Covid e questa edizione racconta anche come gli asiatici hanno vissuto quell'epoca e come ne sono usciti. Grazie